Allora eravamo ai primi di aprile del 1945, eravamo col maggior Mauro nelle alture di Monesiglio, c'era Mauri, Bogliolo, insomma l'aiutante maggiore, poi c'era mi pare anche Renzo, il comandante lì del distaccamento di Clavesana, quello di Carcare. Eravamo a dormire in un cascinale e mi ricordo che il maggior Mauro era lì, si è messi a discorrere un po' e ci ricordavamo tra noi i tempi passati, quei tempi che ero ancora anch'io Val Cazotto. Allora parla parla e mi dice guardate ragazzi, adesso in Valle Bormida non si può per il momento, ma la faccenda è che siamo stati informati che si stanno preparando e se ne vanno via i fascisti, i repubblicani vanno via da Monesiglio o da quelle parti lì. Abbiamo saputo che erano scappati tutti, siamo scesi in aprile, i primi di aprile, siamo scesi in Monesiglio e eravamo lì che si dormiva lì in un cascinale nel fiume Bormida, vicino al fiume Bormida e ci dicono ragazzi radunatevi tutti gli armi e quello che vi potete portare via perché c'è una colonna di tedeschi che proviene da Ceva e sta scendendo dai bragioli e viene per la strada di Monesiglio. Allora di corsa, tutti armati, eravamo una quarantina, ne hanno portato su mitraglie, mitragliatori e le armi che più potevamo portare, munizioni, e sarà stato le nove, le nove, le dieci, manco le nove, verso le nove, in mattina, siamo arrivati a una borgata di casa che le chiamavano i Rossi di Monesiglio. Ci siamo piazzati dietro delle pietre, dei muri. Io mi ricordo che c'era un mucchio di letame ed era il punto più, diciamo, dove potevo vedere più bene la strada che scendeva. Questa strada la chiamavano le quattro vie, le quattro o cinque vie che scendeva a Monesiglio. E ho piazzato un brem su una tavola di letame, mi sono inginocchiato e davanti a sto mucchio di letame c'erano tutte tavole, quelle tavole di protezione che letame, diciamo, non uscisse, non sporcasse. E abbiamo tolto tre o quattro tavole dove si poteva fare il brandeggio. Allora ero io con, che io ero col gradino da sergente e avevo due o tre insieme ragazzi lì e mi fanno questi ragazzi, mi dicono, guarda Nando, noi ti prepariamo i caricatori e tu spari. E di fatti così è stato. Arrivati i tedeschi, c'era una strada che se lei va su, sulla strada che da Monesiglio dopo il ponte va su per andare a Monbarcaro non è più come una volta. La strada è tutta pulita, liscia, sono caseggiati di qua e di là. Lì a quei tempi era una strada infossata in due muri, uno di qua e l'altro di là dovevano passare di obbligo, lì dentro. Quando i tedeschi sono arrivati lì dentro, noi abbiamo aperto il fuoco con le mitraglie e sto stem, sto brand, e abbiamo sparato fino a circa verso mezzogiorno. Continuava a sparare, eh? Io mi ricordo che ho dovuto spostarmi un momento perché si vede che di là giù hanno visto questo fuoco di Bren e ho visto contro queste tavole di protezione come, si immagina, una tempesta, queste tavole che buttavano tutti i pezzi di legno. Loro di là giù sparavano con le mitraglie. A 25 metri manco da dove ero io, c'era un mio compagno che lo chiamavano Lupo, Lupo Fiorincelli, e stava sparando con questa mitraglia da 14 mm. Dopo parecchi minuti ti arriva la prima bomba di mortaio. Si vede quel mentre lì che noi li abbiamo attaccati, non avevano mortai. Chissà o cosa li hanno fatto arrivare da un'altra squadra che proveniva sempre di lì, da Ceva, giù da quelle parti, perché era una squadra di tedeschi che si ritirava. E lì, dopo parecchi colpi di mortaio, ci hanno individuato anche noi. Allora, il primo colpo, cioè, diciamo, un colpo l'ha preso il mio amico Fiorincelli, l'ha preso in mezzo al tripiede della mitraglia. E un altro colpo che ha picchiato lì vicino l'ho preso anch'io. Un fumo l'azzurro, tutto quel fumo lì dove è picchiato lì vicino a questa bomba di mortaio. Che ne è picchiato? Uno vicino a me e lì in quella casa c'era un balcone. Uno è picchiato sul balcone, spaccato tutto. E io ero lì, mi ha ferito. Mi ricordo che sono andato in terra come un sacco. Proprio in terra. Ero lì nell'angolo di quella casa col brain in mano. Che ho detto adesso poi mi metto di nuovo a sparare. Mi sono trovato in terra. E' un gran dolore per tutto il corpo. Lì c'era un amico sempre che eravamo assieme, il marito di lì dall'assù, che era un bravo ragazzo, mi ha detto stai bravo Armando, adesso guardiamo cosa c'è. E' quando il momento che mi hanno portato via. Infatti mi hanno preso trasportato dietro alla casa. C'era una casa lì. Alla casa e mi hanno fasciato un po' perché non potevo più stare in piedi. Un gran dolore da tutte le parti. Mi ricordo che c'era, adesso l'uomo abita proprio qui a Cengio, un ragazzo che aveva sui 13-14 anni. E' venuto da me e mi ha portato come un bicchiere di grappa. Te bevi, mi dice, che vedrai. Ti fa bene. Dopo di me è passato con la bottiglia e è andato da questo lupo Fiorincelli, che non era morto ancora, Fiorincelli. Aveva tutte le gambe spappolate e le ha fatto bere una bottiglia di grappa. Poco per volta, che dopo è morto. Allora i miei compagni hanno preso una specie di lettiga. Se posso vi spiego com'era questa lettiga, i contadini di quel tempo avevano fatto un affare che la chiamavano loro laggiù, la Civera, dove pulivano la stalla in due, caricavano questo affare di letame, uno davanti e uno dietro, portavano il letame nel mucchio. Mi hanno caricato lì sopra e mi hanno portato in un cascinale giù, lontano da quel punto lì dove eravamo rimasti feriti, perché poi lì abbiamo dovuto sbandare, siamo rimasti diversi feriti, portare via i feriti, quello lì è morto così e tutto. E mi hanno messo dentro questo cascinale, che era uno di quei cascinali ai tempi che nelle vigne, nelle vigne una volta avevano il torchio, facevano anche il vino, però a quei tempi l'avevano riempito i contadini di foglie, fogliame, per adoperare nelle stalle alle mucche. Mi ricordo che mi hanno messo su un angolo di questo cascinale perché era proprio zeppo, quasi quasi non si poteva entrare, mi hanno messo un telo da tenda e mi ci hanno messo dentro io lì, lì avevo lo stem, la pistola, sei caricatori da 30 colpi e cinque bombe a mano. Io ero messo proprio nell'angolo di questo cascinale che era coperto da coppi. Cosa ho fatto? In quel momento ho tolto i coppi e mi sono attaccato lì, sono riuscito a vedere cosa c'era sotto. Ho detto, beh, se qui arrivano fascisti tedeschi che lo bruciano, perché era sto cascinale circondato un po' da quei roveri, tutti quei cespugli, no, non era che si potesse vedere bene. Ho detto, mi butto dall'altra parte, in qualche maniera gliela farò. Oppure se mi vedono, butto le bombe e cerco di sparare. Poi avevo la pistola, una P-38 tedesca con un colpo in canna. Ho detto, per finire in mano con tutto quello che sapevamo, ho detto, io mi abazzo. Comunque grazie al signore non sono venuti. Verso sera sono venuti a prendermi i miei compagni e mi hanno portato nella chiesa di Gotaseca. Lì c'era un signore che a quei tempi aveva una ballilla. Dice, beh, cosa volete che ne facciamo qui? Non possiamo tenerlo. Lo prendiamo, eravamo in due feriti, lo portiamo a Cortemiglia, all'ospedale. Difatti nella notte siamo scesi da Gotaseca, siamo scesi giù senza chiare. Il bello è che è ancora andato a finire e che il parafango, la ruota è andato a picchiare nella sponda del ponte. A momenti andiamo nel fiume. Vabbè, aggiustata quella, mi hanno portato a Cortemiglia. A Cortemiglia eravamo verso il 10 o il 12 aprile, da Piana a Cristia. I fascisti avevano spiazzato dei canoni da 20 mm o 200 o 20 cos'erano e sparavano su Cortemiglia. Due o tre bombe sono venute a finire nel cortile dell'ospedale. Allora è venuto lì il maggior Mauri col maggiore inglese e mi fa Nando ti portiamo a Castino perché qui è una cosa pericolosa. Stai tranquillo che a Castino sei guardato, ha visto giorno e notte. Non ti lasciamo soli. Se succede vi portiamo via noi. Va bene. So che dopo un giorno o due o tre, non mi ricordo proprio preciso, è arrivato il maggiore inglese e mi fa Nando una notizia buona per te. Fra pochi giorni arriva l'aeroplano che veniva un aeroplano a Vesime di Cortemiglia dove i partigiani e i contadini avevano costruito un aeroporto, una specie. Nando un posto è tuo, sei su quell'aereo e ti portiamo dopo le linee. Non so se vai a Firenze o se ti portano a Rodi dove c'era un ospedale militare. Non lo so. Comunque la tua destinazione è quella. Devi essere contento. Vedrai che se tutto va bene ci troveremo poi in Italia liberata, mi diceva. arriva l'indomani, mi fa Nando, domani arriva l'apparecchio. C'è un problema. Ieri in un combattimento sono rimasti feriti gravemente due ufficiali. Se lì operiamo immediatamente guariscono, altrimenti muoiono. Però guarda un posto è tuo eh. Nessuno te lo può prendere. Perché tu in questo momento fai un po' parte a noi, alla commissione che fa i lanci. E le ho detto, Maggiore, dove mi portate? Quando potete portarmi via di qua? Guarda, ti portiamo dove tu vuoi. Savona, UNEO. Guarda, tu hai solo da dire dove vuoi andare e noi ti portiamo. È arrivato il 25 aprile e il giorno 27 sono arrivati su a Castino. C'era un'automulanza, un'autoblinda e un camion di militari. Sono venuti a prenderci, ci hanno portati a Savona. Arrivati a Savona, in piazza, piazza Mameli, dove c'è il campanone. So che quest'ambulanza ha fatto tempo a ripararsi, sapete che c'è il campanone, dietro a questa campanaccia. Dal palazzo opposto, dalla parte di là, ci stavano sparando addosso. fascisti. Io ero lì, dicevo, ma chi è che spara? Insomma, è venuto lì, uno ci ha detto, state tranquilli ragazzi, che sono già partiti la squadra di partigiani, sono andati a vedere, però senti, eh, la mitraglia, come spara forte là contro. Sono andati lassù, c'erano due fascisti. Li hanno presi, li hanno portati sul tetto che loro, quel palazzo lì, tetto non aveva, c'era, come si dice, la terrazza. Han chiamato i partigiani di giù, li hanno detto, preparatevi che li buttiamo. Come li hanno buttati giù, quei di sotto li sparavano dentro. E lì, quella lì è finita, che li hanno portati poi all'ospedale.